Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dedicato al mondo Macintosh. Allora, nella sessione di oggi vi voglio parlare rapidamente di una cosa, il Macintosh HD. Avete per caso un desktop che appare così? Beh, in questo caso questo tutorial è quello che fa per voi. Io ho già fatto un tutorial a suo tempo in cui vi spiegavo le cartelle di sistema che sono presenti su ogni Mac in cui è installato Mac OS, quindi già quello è un'ottima base di partenza. Ma siccome ci sono un sacco di persone che sono abituate a ammucchiare file in posti casuali oppure mettere file in cartelle dove non dovrebbero metterli per poi magari rivederli più avanti, decidere se buttarli o meno... No! No! Questo può, diciamo, diminuire le prestazioni del vostro Mac e soprattutto può causare problemi a voi perché magari non trovate un file che avete già e quindi lo scaricate di nuovo e quindi avete un sacco di doppioni. Insomma, ci sono un sacco di problemi legati a questo disordine, fra virgolette. Di tutto questo vi voglio parlare dopo la nostra sigla. Bene ragazzi, rapidamente come al solito prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanella per essere informati su tutti i caricamenti futuri, lasciate un like, condividete se lo ritenete opportuno, in descrizione trovate tutti i link del caso, la mia pagina Facebook, il mio sito con l'elenco di tutti i video pubblicati fino ad ora e il link di PayPal se qualcuno volesse supportarmi con una piccola donazione. Detto questo, torniamo rapidamente all'argomento del nostro video. Bene ragazzi, allora guardate un po', questo è il mio desktop come già sapete. Che cosa si nota fin da subito? Che è spoglio, non c'è quasi niente sopra, le icone sono veramente poche e molte delle icone, come notate qui, sono dei collegamenti, non sono delle vere e proprie cartelle. Vedete la freccettina qui? Questa significa che è un collegamento, non una cartella, e quindi i veri file non sono sul desktop, ma nelle cartelle di sistema. Quindi il primo posto di cui dobbiamo parlare è proprio il desktop. Non c'è niente di più comune che accumulare immondizia sul proprio desktop. Anche io l'ho fatto per tantissimi anni, devo dire la verità. Adesso ho imparato a essere un attimino più ordinato e anche organizzato. Ma che cosa succede di solito? Scarico un programma e non so bene dove metterlo? Lo lascio sul desktop. Scarico una foto, non lo so, un file, qualunque cosa, e non so bene dove metterlo? Lo lascio sul desktop, ci penserò poi. Beh, in poco tempo alla fine si arriva veramente a una situazione di questo genere qui. Capite bene che è insostenibile, sia per la produttività che per le prestazioni del vostro Mac. Quindi il primo punto è non usate il desktop come una specie di deposito. È un grandissimo no da parte mia all'utilizzo del desktop per accumulare file di ogni tipo. Al secondo posto, ma solo poco dopo, sono quasi pari al mio modo di vedere, nella mia classifica personale di posti sbagliati dove la gente è abituata a accumulare file di ogni tipo, è proprio lei, la famigerata cartella dei download. Beh, se ci pensate è comprensibile. Qual è il posto più normale, più comune dove la gente scarica cose? Quando la gente va su internet e, non so, scarica un programma, scarichiamo Firefox, dove va l'installer? Nella cartella dei download. Dopodiché uno installa l'applicazione e il 99% delle volte lascia lì l'installer. Andiamo su Google, scarichiamo una foto che ci interessa per un qualunque motivo, dopodiché cosa succede? La usiamo e la lasciamo lì nella cartella dei download. Ecco che, in breve tempo, la cartella dei download diventa una specie di discarica di installer usati, foto che non ci servono più, file che non sappiamo dove mettere, eccetera, eccetera. Ragazzi, lo so che può sembrare un discorso retorico, scontato e banale, ma io vi assicuro, vi giuro, che ho visto gente con centinaia, se non migliaia, di file per decine, a volte centinaia di giga nella loro cartella dei download, con file a volte risalenti anche a 3-4 anni prima che non nemmeno immaginavano di avere ancora. Per cui ulteriore grande consiglio, non accumulate file nella cartella dei download, non usatela come deposito e dateci un'occhiata di tanto in tanto per monitorare la situazione. Da tutto questo discorso sulla cartella dei download poi deriva direttamente il mio terzo posto, ovvero il cestino, perché cosa fa la maggior parte della gente quando si decide finalmente a pulire la cartella dei download? Butta tutto nel cestino. E il cestino è proprio la terza cartella di sistema che io vi consiglio di monitorare frequentemente e di organizzare in un certo modo, perché anche qui si tende a accumulare roba di ogni tipo. Fortunatamente, almeno per il cestino, c'è un tool di sistema che macOS ci mette a disposizione che può rendere molto più facile la sua gestione per gli utenti più sbadati, barra distratti, barra occupati che hanno altro a cui pensare. Se noi andiamo nel menu del Finder e nelle impostazioni, vedete che qui nella tab avanzate, andiamo a cliccare su avanzate, c'è questo tool che dice rimuovi elementi dal cestino dopo 30 giorni. Io vi consiglio di mantenere sempre spuntato questo tool, perché per chi ha altro a cui pensare o semplicemente è distratto, aiuta incredibilmente a smaltire gli arretrati nel cestino. Non dovete semplicemente pensarci, perché al massimo dopo 30 giorni il cestino viene svuotato automaticamente da macOS. Datemi retta, è un tool molto utile. Quindi il mio terzo consiglio è non usate il cestino come deposito di cose che non sapete dove mettere, che pensate di dover rivisitare più tardi per decidere se tenerle o cancellarle. No, nel cestino metteteci solo cose che siete sicuri al 100% dopo averci pensato di voler cancellare e mantenete questa spunta attivata in modo che nel caso vi dimentichiate o abbiate altro a cui pensare, perché mi rendo conto che spesso nella vita ci sono cose più importanti a cui pensare che svuotare il cestino di macOS, in questo modo non dovreste avere problemi anche nel lungo periodo. Vediamo a questo punto alla quarta posizione di cui vi volevo parlare, ovvero i backup di Time Machine. Qui vedete il mio hard disk esterno che io ho diviso in due per farci il backup sia dell'iMac che del MacBook Pro. Ora, premetto che io di backup, come vedete, ne ho pochi, perché come vi ho detto più di una volta, io spesso i backup dei miei dati li faccio in maniera manuale. Time Machine mi serve solo una volta ogni tanto, specie dopo un aggiornamento magari particolarmente importante, e pesante del sistema operativo, per creare dei, fra virgolette, punti di ripristino del sistema operativo. Per quanto riguarda i miei dati, sono abituato a backuparli manualmente su hard disk esterni. Ora, che cosa succede spesso? Che, essendo Time Machine già di suo, un hard disk dedicato al backup dei dati personali di un particolare utente, che cosa pensa tante volte un utente medio? Ho questo file sul desktop o comunque sul mio Mac che mi occupa un sacco di spazio, non so dove metterlo, mettiamolo nell'hard disk di Time Machine, tanto è comunque sempre un backup, giusto? Sbagliato, o meglio, non necessariamente sbagliato, ma potrebbe creare dei problemi per il corretto funzionamento di Time Machine. Infatti, quello che Apple ha sempre consigliato, praticamente fin da quando Time Machine è stata rilasciata al pubblico la prima volta, è di non mischiare dati personali eccedenti al vero e proprio backup automatico di Time Machine con i veri backup di Time Machine. Questo perché, non tanto per quanto riguarda un funzionamento quotidiano dell'hard disk o comunque dei backup, ma in particolare quando lo spazio dell'hard disk è terminato o quasi e quindi non ci sta un ulteriore backup, Time Machine, come sapete, cosa fa? Cancella i backup più vecchi per creare spazio per quelli più recenti, ok? E quindi a rotazione si aggiornano i vari backup. Cosa succede se ci sono dei file esterni aggiunti manualmente? Che a un certo punto l'hard disk di Time Machine non sa più distinguere bene qual è un backup, qual è un altro, dove finisce uno, dove comincia un altro e quindi potrebbe creare dei problemi per la sostituzione dei file vecchi, potrebbero dare degli errori, insomma ci si potrebbe trovare con un backup non funzionante e questo non è una cosa che vi consiglio quando avete veramente bisogno di fare un backup. Oh, come volevo farvi vedere in particolare, questa cosa è stata praticamente neutralizzata alla base da Apple stessa, in quanto nelle versioni più recenti di Mac OS con Time Machine, come vedete, non è più possibile trascinare dei file esterni all'interno del backup. Vedete che c'era il simbolino di divieto? Nel momento in cui io vado a trascinare un file manualmente, viene fuori il divieto e non me lo fa trascinare, un po' come i file di sistema del sistema operativo. Però se voi utilizzate una versione più vecchia di Mac OS con una versione più vecchia di Time Machine, questa cosa ancora non c'è e quindi dipende dal vostro buonsenso il trascinare o meno dei file esterni all'interno dei backup di Time Machine. Non fatelo perché potrebbe creare dei problemi al funzionamento di Time Machine stessa e potreste trovarlo con un backup non utilizzabile nel momento in cui maggiormente ne avrete bisogno. Ok, ma dopo tutta questa pappardella lunga su cosa non fare e dove non mettere i nostri file sia temporanei che duraturi. Dove ne dobbiamo mettere questi file? Allora, ci sono fondamentalmente due regole generali, secondo me, da seguire, che in un certo senso sono anche alternative tra di loro, per molti aspetti. La prima è utilizzare le cartelle di sistema. Sono lì per un motivo. Per esempio, dobbiamo archiviare i nostri file musicali? Usiamo la cartella di sistema musica che si trova all'interno della nostra home folder. Tra l'altro, finché ce l'ho in mente, vi ricordo che è la stessa cosa che vale per i backup di Time Machine, Apple l'ha resa da Catalina in avanti operativa anche per le cartelle di sistema, ovvero quelle di base all'interno del Macintosh HD. Essendo nella partizione secondaria dedicata al sistema operativo che è di sola lettura, come vedete, non è più possibile trascinare file e immagazzinarli all'interno delle cartelle di sistema di base, ovvero librerie, sistema, eccetera, eccetera. A questo livello qui, tranne la cartella dell'applicazione quando noi andiamo a installare un programma, non è possibile immagazzinare temporaneamente dei dati. E, mi raccomando, tornando al nostro esempio pratico, non utilizzate la cartella home come ulteriore cartella di deposito, anche perché qui è meglio lasciarci meno cose possibili. Come vedete, nel mio caso, io ho solo le cartelle di sistema, le uniche che sono state aggiunte sono quella di Downhelper, che a volte uso per scaricare cose, che è stata installata di default qui, e quella di Parallels, che tra l'altro sono tutte e due vuote in questo momento. Bassano le uniche due. Per il resto, non ho mai messo niente nella cartella home, che va lasciata il più possibile così com'è. A questo punto dovrebbe essere chiaro che quello che è stato detto per la cartella musica vale per tutte le cartelle di sistema, ovviamente. Così come la musica la dovreste archiviare sempre e solo nella cartella musica di sistema, per esempio, per quanto riguarda i video, vale lo stesso discorso. Usate la cartella video all'interno del vostro folder home. Come vedete, in questo caso, anche la mia libreria di Final Cut e tutti i miei file video di rendering sono tutti lì. Un discorso diverso, ma in un certo senso simile o quasi parallelo, si può fare per quanto riguarda le applicazioni. Così come non è buona norma lasciare un cimitero di installer nella cartella dei download, non è buona norma lasciare le applicazioni che vi ricordo sono dei pacchetti, sembrano delle icone, ma ogni icona di ogni applicazione ha un pacchetto al suo interno con tutti i file che fanno funzionare quella particolare applicazione. Non lasciatele in giro, non mettetele sul desktop, non mettetele in altre cartelle o sotto cartelle. Ogni volta che scaricate e installate un'applicazione mettetela sempre e solo nella cartella di default delle applicazioni, questa qui. Altrimenti non vi ricordate dove sono, potete creare dei doppioni, insomma non è una buona cosa. Ok, a questo punto mi pare inutile ripetere lo stesso identico discorso per tutte le altre cartelle di sistema. L'antifono dovrebbe essere chiara. Ma, se vi ricordate, io all'inizio vi avevo detto che c'erano secondo me due regole fondamentali da seguire, che erano diverse, si compenetravano tra loro in un certo senso, ma sempre in un certo senso potrebbero essere considerate anche alternative. Non al 100%, ma in buona parte. Di che cosa sto parlando? Se la prima regola era usate sempre e solo le cartelle di sistema, quindi la libreria di Final Cut sempre e solo nella cartella video o filmati, comunque si chiami, la musica sempre e solo nella cartella musica di sistema e via dicendo, noi abbiamo tanti tipi di file, di tipo diverso. Abbiamo documenti, abbiamo video, abbiamo foto e chi più ne ha, più ne metta. L'altra grande scuola di pensiero che in un certo senso è parzialmente complementare ed è quella mia, è di utilizzare un'unica cartella con tante sottocartelle personalizzate al suo interno per immagazzinare tutti i vostri file. Se da un lato la musica la dovremmo tenere nella cartella della musica di sistema, se la libreria dei Final Cut rendering o dei rendering di iMovie dovrebbero essere sempre e solo nella cartella video, tutti gli altri file personali che siano il mio archivio di foto, il mio archivio di file, il mio archivio di lavoro, sarebbe buona norma crearla tutta all'interno della cartella documenti. Ovviamente non vi sto dicendo di fare un gran minestrone di tutto, ma vi sto dicendo di organizzarvi bene fin dall'inizio con cartelle e sottocartelle tematiche. Una cartella per i documenti di lavoro, una per quelli personali, una per le foto, una per i video, eccetera, eccetera. Dopo ovviamente ognuno crea la propria archiviazione personalizzata, ma questo è il concetto di base. Se siete stati particolarmente attenti avrete notato che non ho parlato per niente della cartella immagini, che è quella dove di default viene creata la libreria dell'applicazione foto. Come mai? Assolutamente non ho niente in contrario all'applicazione foto, ma siccome crea una libreria criptata che è leggibile solo da un altro computer Mac, io preferisco non utilizzare foto per archiviare tutte le mie foto, i miei video personali, ma mi creo un archivio personalizzato di foto e video divise per anno o per argomento senza utilizzare foto, ma andando appunto ad archiviare tutto manualmente, anno per anno, evento per evento, in un archivio di foto personalizzato, in modo che sia leggibile da qualunque computer e non solo da un computer Mac in caso di emergenza provvisoria. Chiamatemi paranoico, ma in caso di emergenza devo poter essere in grado di accedere al mio archivio di foto e di filmati storici anche da un computer che non sia il Mac. Se poi siete come me e volete avere sempre sott'occhio una scorciatoia di prima mano dove vi basta un click per accedere a tutto il vostro archivio, fate come me, usate gli alias. Se io vado per esempio qui dove dice iMac di Alessandro, che è praticamente la cartella radice di tutto il mio hard drive, vado Macintosh HD, la cartella degli utenti qua e poi vado nel mio utente Arepiada. Questa è la cartella radice di tutto, documenti. Cosa faccio? Clic destro, crea alias e mi crea un collegamento come gli altri che avevo già sul desktop. Vedete? Questo qui poi lo vado semplicemente a spostare sul desktop e poi lo vado eventualmente a rinominare come voglio per togliere quell'alias che suona proprio male. In questo caso lo posso chiamare documenti Alex, così tanto per avere un nome generico. Ok? A questo punto io ho sotto mano sul desktop una scorciatoia dove mi basta un click come vedete per avere accesso a tutti i file personali che io ho immagazzinato sul mio iMac. Tutto il resto è nel mio hard disk esterno. Tutto quello che io ho nel mio Mac è qui all'interno della cartella documenti tutto insieme tutto con un collegamento sul desktop in modo da essere accessibile con un solo click. In questo modo per esempio è molto facile anche fare un backup improvviso se per caso dovete spostarmi all'improvviso da un computer a un altro per qualunque motivo. Vi basterà copiare solo quella cartella attenzione a non copiare l'alias ma la cartella vera e propria per avere in poco tempo un backup di tutti i vostri dati. Ovviamente a parte il discorso musica e file video di Final Cut che sono nelle loro rispettive cartelle video e musica. Ma come vedete io uso una specie di ibrido dei due metodi. Uso la cartella di sistema musica e video per due cose ben specifiche e tutto il resto lo tengo all'interno della cartella documenti con tante sottocartelle tematizzate. Ora ovviamente io non voglio che voi seguiate in maniera acritica tutto quello che ho detto senza riflettere sulle vostre esigenze le vostre abitudini quello che avevo intenzione di fare è di farvi vedere un po' quali sono secondo me le regole generali per sfruttare adeguatamente le risorse che macOS ci mette a disposizione senza confusione senza doppioni senza difficoltà nell'utilizzo del sistema operativo quotidianamente eccetera eccetera queste sono delle regole generali che possono essere seguite totalmente possono essere seguite in parte solo una solo l'altra dipende da quello che voi preferite quello che volevo farvi vedere semplicemente era indicarvi la direzione generale e cercare di combattere gli errori principali che la maggior parte della gente per mia esperienza personale vedo che commette quotidianamente ovviamente una volta fatto questo tutto il resto dipende da voi non voglio certamente che facciate esattamente come faccio io questo deve essere ben chiaro detto questo io vi saluto fatemi sapere se questa cosa vi ha interessato fatemi sapere se siete d'accordo se secondo voi ho dimenticato qualcosa di importante se ho detto qualcosa che non andava detto fatemelo sapere detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta ciao a tutti ragazzi